Da pochi giorni sono state aggiornate le linee guida super bonus per la determinazione del corrispettivo redatte dalla rete delle professioni tecniche. Le linee guida hanno lo scopo di aiutare i professionisti nella determinazione del corrispettivo massimo secondo il DM del 17 giugno del 2016 per poi verificare la congruità come indicato dal comma 13 dell'articolo 119 del decreto rilancio. Il prossimo lunedì 8 marzo pubblicherò alle ore 18 un video in premier dove mostrerò il calcolo delle parcelle per la progettazione, la direzione dei lavori, delle opere strutturali in un edificio unifamiliare per interventi di riduzione del rischio sismico redatte appunto secondo queste indicazioni delle linee guida.